e vai avanti sempre dritto sempre dritto e si va a proverso vai dritto 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 si vai curva su di CS 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 C7 C21 molto bene molto bene vai e mettonati il controllo vada aperti 1 2 3 vai fermati il primo rifornimento riparti 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 sempre dritto 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 al bar al bar al bar